Siamo qui, Bollard 2008, i nostri campioni, Istio, Givo, Marco, sono spessissimi e nudissimi, bene, oggi qui vicino a noi, da pochi passi dal campeggio, vicino all'Alpino, si svolgerà il grande torneo di lotta libera di Bollard, bene, primo incontro, Givo contro Marco, Ricordiamo che Marco è una cintura nera di Vietbo Dao, Givo è una cintura blu fucsia amaranto, ecco il combattimento, è iniziato tra, Istio e Marco, colpa di scena, Istio e Marco, che regnata paurosa ragazze, sono fortissimi, E' inutile, Istio ha soprassato, ma è tra colpa di scena, è tra Ico, chi è quello, è Givo, è Givo, scherzavo, oh mio Dio, che male, che male, che male, E' dentro, che male, che male, che male, che male, che male, bene, ma attenzione, la nuova promessa del wrestling, è Ico, è lui, attacca le spalle, nessuno lo vede, è fortissimo, Oh mio Dio, che male, ma chi è che arriva in corsa, un uomo nudo, che schifo, ah 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 ah